Musica Quel diavolo di un favilli all'interno dei magazzini porcellotti cosa fa? Fa tutti gli anni sconti, test e grazie, si inventa una cosa e secondo me degna di nota che parte da domani, come ti è venuto in mente, cosa parte e perché? Allora, si parla del Black Friday, perché da qualche anno ormai è snoganato, viene fatto su tutto, macchina noi che da qualche anno si faceva prima il Black Weekend, poi da due anni che si fa la Black Week che vuol dire la settimana completa, cioè la settimana del 29 di novembre che sarebbe il giorno ufficiale americano del Black Friday Da te parte da domani? Da noi parte da domani, ovvero non si fa solo la settimana ma si fa anche da domani, dal sabato fino alla domenica primo dicembre, rischio di sbagliare No, perfetto, perché l'anno scorso il Black Friday era il 23, quest'anno è il 29 perché è il giorno dopo il giorno del ringraziamento E tu sei che fa scopare il tuo parto? No, vedo che c'è attesa dai clienti che vogliono, tutti aspettano il Black Friday quindi ho detto perché non anticiparlo, un po' perché serve, l'anno scorso, ripeto, era il 23 quindi si iniziò a lavorare molto presto e si è deciso di fare questa promozione un po' più allargata perché quest'anno c'è stato questo posticipo E questo su tutti i tuoi negozi? Su tutti i negozi e su tutti gli articoli, soprattutto, con sconti dal 30, 40 e anche il 50% Allora, lui lo trovate qui ad Arezzo, siamo dietro la polizia per facilitare la cosa in via che non mi ricordo mai E via Benedetto Varchi ma non la conosce nessuno, nella zona Montefalco, la rotonda della Questura Dietro la Questura A Casentino, Magazine Union a Bibbiena, a Corsalone Corsalone di Bibbiena E il più facile è all'uscita, all'uscita praticamente del Valdano Tutto questo fino al primo di dicembre 30, 40, 50% di sconto Non lo so, se volete un fiasco d'olio? Che c'è la mosca, tra l'altro